Adesso è ufficiale, ShalanorGlue è un nuovo giocatore dell'Inter preso a 0,5 euro all'anno, più euro di bonus Un piccolo colpaccio di Beppe Marotta che ovviamente ci vede lungo sui giocatori Ora tutta a criticare che un acquisto di merda eccetera, io sono proprio complesso per carità Allora come ora non ci sono soldi, o vai sui giocatori a 0 oppure resti con un buco a 100 campo Perché Ericsson al 100% non gioca più in Italia oppure lo vai a aspettare 6 mesi prima che torni O vai sui giocatori a 0 oppure non compi nessuno Quindi è stata una scelta intelligente dalla parte di Beppe Marotta di comprare un giocatore a 0 Che ha diciamo le stesse caratteristiche di Ericsson per sostituirlo ma ci sta Ovvio è discontinuo ma giocare con Defrae, Lukaku, Lautaro, Hakimi, Marella Non è giocare come Salemeche, Castiglieco, Ebi, Giochi, Siano con tutto il rispetto per Milo ovviamente Però giocare con Marella e Broso ti dà più sicurezza, più fiducia Pure Gagliardini quando giocava con Broso e Marella era più sicuro Adesso non voglio mettere male avanti ma c'erano uno sull'Ombra con Ferre anche bene Alle Vercusa mi piaceva, al più buono di Milano è un freccalato perché con tutte le critiche Con tutti e tutti che erano dato perché ha di scontino un po' anche i giocatori ci rimane male Poi magari fa la stagione alla malonna e tutte chiede di scusa Io gli darò fiducia, come ho dato fiducia ai vari Ericsson, ai vari Marella, Broso eccetera 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 Poi se dovesse fare schifo così tanto trarò le mie conclusioni ma per adesso io voglio dare fiducia Stop Quindi chiedi, è venuto Arkan Shaladoglu Sperando che tu possa in Asher Anche mentalmente perché sei un ottimo giocatore, ha ottime qualità Ovvio che all'Inter non ti chiedeva il compitino Dichiamo di fare molto molto di più anche perché giochi la Champions Giochi una squadra che ha vinto lo scudetto Quindi caro Ciala devi dare e tira a fare Bravo, io vi saluto Benvenuto ad Arkan e Sperforzetta E Italia Grazie 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 Grazie